30 maggio 1924, Matteotti parla alla Camera, denuncia i brogli elettorali e le sopraffazioni dei fascisti, decisi a instaurare la dittatura. Sarà il suo ultimo discorso. Ecco l'inedita testimonianza di Giorgio Amendola, presente per caso proprio quel giorno nella tribuna del pubblico. Io avevo allora 17 anni, ero un cattivo studente liceale, avevo già una grande passione politica ed ero ficcato nella tribuna delle famiglie durante tutta quella discussione, in una posizione che mio padre non mi vedesse perché non voleva. Quindi ho ascoltato il discorso di Matteotti al 30 maggio, il discorso pronunciato da Matteotti in mezzo a una continua, tumultuosa ostilità che arrivava a forme aggressive, volgari e a questa violenza esercitata contro Matteotti partecipava direttamente anche Mussolini che interrompe più volte. Matteotti continuò con coraggio il suo discorso, con calma, cerchiato, quasi protetto dalla pattuglia dell'opposizione e ho ricordato più volte l'impressione che ebbe a un certo punto di uno scatto di insofferenza di Mussolini, che vedi rivolgersi a un suo vicino, non so adesso chi fosse, con un gesto volgare, prateare, come se ormai avesse Matteotti superato non so quali limiti, dice ma cosa ci aspetta? E' il gesto che dice ma cosa aspettate a dare una lezione probabilmente, forse in quel momento è partito l'ordine di quella che è stata poi il sequestro della lezione, poi è diventato dice l'assassinio, non vogliesse entrare nella dinamica del diritto, però ecco questo impressione è sempre rimasto, di aver visto quel gesto di insofferenza di Mussolini, questa sua volgarità e violenza.